Il passaggio successivo dopo il libro, la community dove intendi portarla? Guarda, a me piace l'idea venendo da un'esperienza sempre molto legata al mondo dei media, sia come imprenditore con Blogosfera ai tempi che era un network editoriale, avevamo centinaia di blog che parlavano di vari temi, e poi l'abbiamo venuto a solo 24 ore, e sia per l'esperienza che ho fatto in televisione, su Sky, in radio, per tanti anni, a me piace l'idea che oggi sia possibile creare un media, e quindi mi piace il fatto di pensare che questo è l'inizio di quello che può essere un media alternativo, dove magari oggi sono solo io, ma immaginate se tu metti insieme dieci tizi come me, che hanno magari una community già viva, attiva, interessante, li metti insieme e cominci a avere milioni di persone, cioè hai più audience del TC5, capito? Quindi questo secondo me è un tema interessante.